Dopo nove anni la Ferrari torna alla vittoria nel Gran Premio di Monza. Charles Leclerc, dopo il trionfo in Belgio, chiude in weekend perfetto. Iniziato sabato con la pole position è terminato con una gara lunga e difficile in cui è riuscito a tenere dietro le due Mercedes. Pubblico rosso gioioso e festante per una giornata che sicuramente ricorderanno tutti. Altra gara da dimenticare invece per l'altra Ferrari di Vettel che chiude tredicesima. Il tedesco, dopo un testa coda, è rientrato improvvisamente in pista colpendo la racing point di un incolpevole stroll. Errore che gli è costato un rientro in box anticipato e una penalità di 10 secondi. Sul podio salgono anche le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, mentre l'Italia può sorridere anche con Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo che chiude il nono posto guadagnando due punti. La Lega Calcio lavora alla creazione di un proprio canale televisivo. È questo il progetto su cui si sta lavorando a Milano in Via Rossellini nel caso in cui la trattativa con gli spagnoli di Media Pro dovesse andare in porto. L'idea è di mettere a disposizione degli utenti un abbonamento mensile dal costo di circa 30 euro che permetterebbe di vedere tutte le partite della Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo le previsioni di Media Pro, che già aveva provato a partecipare alla scorsa asta del triennio per i diritti del campionato italiano, l'abbonamento al canale o ai canali per 30 euro mensili porterebbe il bacino di utenza dei clienti dagli attuali 3,5 a 4 milioni di persone. Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona a giugno 2020 con una decisione unilaterale. Sarebbe sufficiente avvertire il club Laograna con 30 giorni di preavviso. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Il País, secondo cui nel rinnovo quadrinale della Pulce firmato nel 2017 è stata inserita una clausola che gli permetterebbe di lasciare la squadra, anche se non è chiaro se al Barca aspetterebbe un indennizzo e la postilla varrebbe solo nel caso in cui Messi decidesse di andare a giocare in una Liga minore. L'attuale contratto dell'attaccante argentino scadrà nel 2021. Dopo una battaglia lunga poco meno di 5 ore, Rafa Nadal supera il russo Daniel Medvedev e conquista per la quarta volta in carriera gli US Open. Una sfida che il maiorchino sembrava avere a portata di mano dopo aver vinto i primi due set per 7,5-6-3. Il giovane Medvedev però non si arrende e risponde vincendo i seguenti due parziali per 7,5-6-4. Il quinto e decisivo set sorrida a Nadal che chiude con un 6-4. Lo spagnolo conquista il diciannovesimo titolo dello slam in carriera. Ora c'è solo un trionfo a dividerlo dal leader Roger Federer. Grazie a tutti. Grazie a tutti.